Sabe no? Ma che titoli c'ha il tuo gioigliere? Che cazzo ha vinto? Che ha fatto? Che c'ha? Chi è? Chi cazzo è? Ma chi è? Ma chi cazzo è? Ma come si ha un titolo il suo gioigliere? Ma che ha vinto? Ma che titoli c'ha? Ma dove esercita la sua professione? La porta portiere se rimortasci i vostri Sì, Antonio F in Artedoni, senti vedi qua c'è il set dietro di me persone che lavorano per me, capisci? Io te lo direi pure chi è il mio gioigliere, ma poi ti devo chillare Antonio e Weinio, vi ho visti su quello stupido lungo mare di Napoli, sì, come siete cuccioli, sì, sì Ma vi volevo chiedere una cosa, ma chi cazzo è il vostro gioigliere? Uno che vende le case?